Omnia munda mundis Nell'epistola di San Paolo a Tito 1,15 è scritto Omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Che cosa significa? Commento La frase di San Paolo è stata ripresa da alcuni maestri immateriali per indicare che la creatura che non ha in sé certe limitazioni non le vede nemmeno negli altri.